Esetto, 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 es Grazie. 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 Presidente, valutate le candidature arrivate presto a questo Consiglio, erano cinque curricula presentati, fatto uno screening generale per quanto è di nostra competenza, del suo punto che ovviamente per il comitato di un'idea di una biblioteca, di una piuttura più alta che altro per lauree umanistiche, per lauree che abbia mantenenza con una materia che deve essere traslata dall'organo, la parte di opposizione che è rimasta, non mi prendo l'opera di rappresentare tutta l'opposizione che oggi non è presente, per dare finalmente un comitato di rettivo alla nostra biblioteca, al momento che siamo alla terza volta che il Consiglio si trova a dover nominare questo comitato scientifico di rettivo, abbiamo scelto in questa posizione il nome di Daniela D'Aulia, quanto da un'area in l'inque e anche con un bel turismo, quindi speriamo che possa rendere con serietà e con competenza il compito che gli stiamo dando, quindi facciamo anche gli auguri ai nomi di un comitato di rettivo che ha riappeggiato il Consiglio di rettivo alla nostra biblioteca. Grazie. 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 Grazie.